calma marco prima campana almeno 40 e prima eliminazione a meno 39 Thomas Burr tanto per cambiare quando si aprileva va davanti caratteristica dovrà tirare tantissimo nel frattempo è andato davanti Ghiotto dall'Alpi i francesi e adesso Martinelli c'è un avvicendamento continuo nelle prime posizioni e sono partiti veramente sparati campana almeno 40 vittoria del primo trofeo Vesmaco in palio Giulia Presti c'è giudicata il primo quello della categoria femminile vediamo se ci sarà anche gioco di squadra vediamo tre della squadra pretaniana Thomas Burr con Cassarino che si trova a lottare in una squadra di giganti il primo è l'esterno cosa una azione più decisa e vediamo se dava un compagno il nostro è Moulay e Zani il 43 fa tre giri da prima campana una curiosità su Moulay che mi chiama artistia che non ha niente a che fare con l'italiano ma vuol dire qualcosa di tipo alba luminosa non vuol dire ardito nel senso militare ed eterno vuol dire qualcosa di tipo alba luminosa Thomas Burr davanti poi poi a poi a poi a a ma a dovevo un le moelle è un po' di ehm Ale dovevi stare in fissa è l'ultimo giro libero Ale Numero 59, prima munizione, 59, munizione, passaggio c'è Campana ed è Giovanni Cassarino che buona la Campana e al prossimo passaggio, prima eliminazione, 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 104, 104, 80, prima munizione, 8-0, prima munizione, l'Ali di Otto, dei di della Nazionale, che non ha messo in testa giusta, adesso è canata per via esterne. Numero 151, 151, eliminato per scopertezza, numero 151, 151, eliminato per scopertezza. Buono, buono, buono! a giro precedente eliminato il numero 399 eliminazione 1030, numero 28 1030, Latane Manac eliminato eliminazione di meno 31 386, 386 386 eliminato stop skating please al passaggio, al prossimo passaggio eliminazione e meno 29 e poi Emanuele Aghiotto davanti Borullai 166 eliminato 166 salvi e sali scusa, scusa, scusa andrete di salire numero 94 una prima munizione 9 e 4 la prima munizione entra entra lì entra Giotto Moulaye entra il gruppo entra eliminazione 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 stai lì stai lì recupera 224 2 2 4 166 166 1031 prima munizione 39 non 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 ti fa zingiare dai 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 occhio è il rischio è il rischio 295, 295, eliminato 295, saporato, giusti vinnetti. Lanciati! Vai Marco, lanciati! L'eliminazione di meno 23, eliminazione 129, eliminato 129, 129, prima ammunizione numero 212, 212, prima ammunizione. L'eliminazione di meno 21, 38, eliminato numero 28, vinnetti, giusti vinnetti, giusti vinnetti, giusti vinnetti. L'eliminazione di meno 23, eliminato 31, 212, giusti vinnetti, giusti vinnetti, giusti vinnetti, giusti vinnetti. Giovanni da fuori! 131, 1031, ha divinto il 1031, fatti vinnetti, fatti vinnetti! Thomas Byrre davanti, poi Ghiotto. Prossimo passaggio, l'eliminazione, è rimasto uno solo, il francese dell'equipe Bretagna. Prossimo passaggio, l'eliminazione di meno 17, la gara procede a velocità, impressionante. 84, eliminato 84. Manuele Angelini, la gara procede a Samuele. La campana di meno 16. Prossimo passaggio, poi Ghiotto. Prossimo passaggio, poi Ghiotto. Domas Byrre all'esterno, eliminazione di meno 15. Numero 80, ha eliminato numero 80. Giacoponi, è durissima questa gara, è durissima. Sono arrivati in pochi, Thomas Byrre, Cassarino. Luca Zani, Ghiotto, intanto è suonata la campana. Ti schiacciare il gruppo per l'eliminazione di meno 13. Eliminazione di meno 13. Eliminazione! Prossimo! Prossimo passaggio! 1.2 29. Mille 209. Eliminato 100. 1.2 29. Numero 8, prima munizione. Vetere! Martinova sempre, Thomas Byrre. 4.8. Melle Calle. Poi Moulai, Luca Zani. eliminazione di meno 11 eliminazione di meno 11 seguilo, seguilo 212, 2-1-2 Simone Torverbio bella gara comunque Simone sono arrivati pochi e sono gli ultimi 10 giri ultimi 2 km di gara di questa 10.000 ad eliminazione Junior Maschi adesso è Gianluca Giovaloina resta alla Ploturcina poi Ghiottola poi Mulai poi Sprava poi Luatani siamo all'eliminazione di meno 9 eliminazione di meno 9 303 3-0-3 Giovanni Cassavino purtroppo 3-0-3 eliminato Grazie Giovanni bella gara comunque bella gara giolo davanti quando al prossimo passaggio sarà l'eliminazione di meno 7 2-6-7 approvato in tutti i modi Donaldo Martinelli ha recuperato sull'ultima curva ma sono rimasti in 7 quando mancano 6 giri e suonerà la campana di meno 6 dopo di che campana di meno 5 sono dei punti di eliminazione di meno 5 sempre il testa gruppo è Gianluca Giovalo al passaggio eliminazione ultimi 5 giri ultimo chilometro ed è eliminazione al passaggio 203-2-0-3 Davide Venegaldo bravo Davide comunque quando mancano 4 giri e suona la campana Giotto per Mollai sono 3 eliminazioni di fila almeno 3 94 Niccolò Canassa bravo comunque alta eliminazione di meno 2 un'altra eliminazione di meno 2 sono rimasti in 5 59 la Gianluca ha tenuto avviato tantissimo ora è Manuel Giotto che lancia una volata di un giro e mezzo Manuel Giotto e Tani Giovalo 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 eliminazione l'ultima eliminazione Manuel Giotto Manuel 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 Giotto grande applauso per lui secondo posto grande Licka Zani e Tomas Sabore in terza posizione grazie a tutti Giovalo